In preparazione avrei un altro libro, più grosso e più cattivo su Milano. Nonostante il passare degli anni, la rabbia contro questa città cresce di continuo. Qui c'è un vantaggio, che ti danno un lavoro e ti pagano. Per il resto non è una città, non è un paese, non è niente. È solo una gran macchina caotica, senza cielo sopra e senza anima dentro. Andrebbe minata. Eppure tutti si ostinano a dire che è il cuore d'Italia. Buon poveriggio. Come al solito noi siamo a Sburgici e iniziamo alle 4. C'è stato un piccolo problema di chiavette, un autogol di chiavette, però l'abbiamo risolto. Dunque, prima cosa, io voglio ringraziare la biblioteca di Cernusco. In maniera particolare il direttore Giorgio Latuati, perché è merito suo se siamo qua, in quanto è lui che mi ha incaricato di fare questa conferenza nel centenario della nascita di Luciano Bianciardi. Cosa che io ho accettato molto, molto volentieri, perché come sapete, quando noi facciamo storia di Milano, Bianciardi è uno dei testi chiave per la Milano del boom, Milano di un certo periodo. Ringrazio innanzitutto Elena, che si è immolata il sabato pomeriggio, che è qua, se qualcosa non funziona è colpa sua, e se qualcosa funziona è merito suo. Dopodiché ringrazio l'assessorato alla cultura, Marco Erba, per l'appoggio. E poi soprattutto volevo ringraziare Davide Frascino, che sicuramente voi conoscete, in quanto lo avete visto magari nella rappresentazione che c'è stata, cos'era quest'estate Davide? Con Elena tra l'altro, Shakespeare la magia nel bosco con l'Arianna Scolmenia. Lui faceva Oberon, scusate se è poco, era un grande Oberon. Era un grande Oberon, in realtà io me lo ricordo qualche anno fa alla Casa delle Arti, con Tre sull'Altalena, un'altra rappresentazione teatrale, ideatore di Cene con Delitto, per cui se volete fare qualche cena con Delitto, Delitto invitatelo. No, a parte tutto, no, perché uno dice, innanzitutto, devo dire la verità, è la prima persona che ho conosciuto a Cernusco, è il primo amico che ho avuto a Cernusco 30 anni fa, per merito dei nostri rispettivi cani. Per cui uno dice, è un amico? No, è un amico sì, però in realtà è un attore e in tempo brevissimo abbiamo concordato le sue letture, per cui davvero lo ringrazio tantissimo per la disponibilità, tra l'altro è laureato in storia, per cui non poco. Dunque, la conferenza, la conferenza innanzitutto è qualcosa a cui tengo molto, al Bianciardi, per tante ragioni che dopo noi vedremo. Innanzitutto, non è una conferenza letteraria, come sapete io non sono un insegnante di italiano, assolutamente, e in realtà inizia la partita soprattutto come qualcosa legata a Milano, infatti di Milano si parlerà. Però, visto che si parla di Bianciardi, abbiamo inserito anche delle letture, perché vogliamo che i libri parlino per lui, e poi è appassionante la vita di quest'uomo, nel bene e nella tragedia, ed è quella che secondo me è più bella raccontare, rammentare e portare avanti, oltre ovviamente che le opere. Dunque, visto che si parla di questo, vi faccio vedere i testi da cui è preso, di modo che se qualcuno volesse poi andare a recuperarli. Il primo testo, che è un testo fondamentale, è questo, tutta biblioteca, per cui sponsorizziamo la biblioteca giustamente, Pinocorias Vitagra di un anarchico. È fondamentale questo testo, perché viene fuori nel 1993, quando Bianciardi è un po' dimenticato, come spesso succede a qualche autore, che ha un grande successo, ha una fiammata di successo, e poi viene un po' dimenticato. Testo molto bello, da cui io ho preso buona parte della biografia di Bianciardi, ve lo consiglio assolutamente. Dopodiché, l'altro testo è ovviamente la Vitagra, questa è un'altra copertina, perché quella è la prima edizione, primissima edizione del 1962, questa è l'ultima, penso, l'ultima feltrinelli economica che si è uscito, che io ho comprato, e di cui appunto io e Davide leggeremo dei brani molto, molto importanti. Poi, se volete approfondire, c'è l'Antimeridiano, che è tutta l'opera di Bianciardi, curata dalla figlia, che vedremo dopo, Luciana Bianciardi, che ha una casa elettrice, che si chiama Ex Cogita, che ha pubblicato tutti i testi del padre, ha curato anche delle riuscite del padre, tipo questo, Il Risorgimento Italiano, è un libro proprio curato post-morte, nel senso che hanno messo insieme dei brani legati al risorgimento, perché come vedremo, uno dei filoni di Luciano Bianciardi è proprio Il Risorgimento. Poi, io vi consiglio di andare a cercare su YouTube assolutissimamente, questo documentario che si chiama Bianciardi, punto esclamativo di Massimo Coppola, che anche lui racconta, partendo da dove partiremo noi, cioè dalla Toscana, partendo la vita di questo, per me, grandissimo autore. D'accordo, quindi, poi chiaramente alla fine, se volete, sono qua i testi, poi sono tutti della biblioteca, per cui potete prenderli, anche se noi chiuderemo alle 6, per cui la biblioteca sarà chiusa, Elena Suppongo, settimana prossima. Detto tutto ciò, io comincerei da Grosseto. Grosseto, il Bianciardi nasce il 14 dicembre del 1922, in quella che è la Maremma Maiala, scusate il termine, che è un intercalare che adesso non andrebbe neanche più di moda, nel senso che adesso la Maremma è un bellissimo posto dove vivere, con agriturismo, pianura, non lontana dal mare, non lontana dalle montagne, allora invece era veramente Maiala, nel senso che tra le varie ragioni per cui si diceva così, perché c'erano paludi, c'erano boschi, c'era la malaria, quando tu nascevi, negli anni 20 perlomeno, da quelle parti, dicevi maledizione perché sono nato qui, che sfortuna essere nato qui, e quindi l'aggettivo, in questo caso l'aggettivo Maiala, veniva usato in questi termini, l'attività principale da queste parti è la Montecatini, che ha delle miniere di pirite, che allora sono molto molto importanti, perché tra le migliori che si trovano in tutta Europa, e l'attività fondamentale è Querdosta. La madre si chiama Dele Guidi, e qua proprio nel libro di Coriace è bellissimo, ed è la madre che sarà una maestra a vita, in che senso, lei è la maestra della zona dove abita il Luciano, tenete conto paese di 30-40 mila abitanti, piccolino, un po' più piccolo di Cernusco attualmente, e la maestra lo è sia da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista di madre, e quindi il povero Luciano, dopo la scuola, deve ripetere benissimo tutti i compiti, dopo mangiato, deve stare attento a fare di qua e di là, nel senso che è una figura, come poi vedremo, molto presente, forse addirittura troppo presente, nella vita di Luciano Bianciardi, e sicuramente la condizionerà in maniera molto forte, addirittura Coriace dice che lui, lei ha vestito, ha preparato i vestiti, come si faceva di Coriace, fino alla quarta superiore, ha preparato i vestiti a Luciano, e Luciano si vestiva, secondo quello che lei aveva preparato la mamma. Quindi una presenza molto forte, tra l'altro gli è sopravvissuta, per cui se andate su YouTube, ecco non ho citato YouTube, scusatemi, su YouTube trovate tutto quello che volete, ho avuto la tentazione di mettere qualcosa di YouTube, però uno può andarseli a trovare queste cose, cioè basta fare Luciano Bianciardi YouTube e vi viene fuori l'ira di Dio, e ci sono dei documentari anche molto belli, ce n'è uno in cui c'è proprio la mamma. Il padre per fortuna di Bianciardi è l'esatto contrario, è un tipo che vive e lascia libere, vivere si chiama, sempre questi nomi toscani, piuttosto strani a Tide Bianciardi, e attaccherà a Luciano due passioni che lo accompagneranno per tutta la vita. La prima l'abbiamo citata, quella per il risorgimento, e poi quella per il calcio. Tanto è vero che lui da giovane è un buon mediano, se non che si rompe il menisco e non potrà più continuare con la sua attività agonistica. amante del quieto vivere, dell'accontentarsi, è un po', diciamo, fa un po' da bilancia, d'ago della bilancia per riuscire in qualche modo da contenere la mamma che è dall'altra parte. Per darvi un esempio, da piccoli la mamma ci tiene, che Bianciardi e la sorella abbiano una cultura, li porta a Roma, a Firenze, a Napoli, poi quando torna, compito delle vacanze, devono fare i temi. E quindi Luciano deve fare i temi e dice che i temi di Luciano sono quelli più belli. Studia Violoncello, cosa che a Grosseto negli anni 30 non è usuale, tant'è vero anche qua ci sono delle immagini simpatiche di lui che vede i suoi amici che tirano le sassate contro gli altri, contro una banda rivale, e lui invece va a studiare Violoncello. Quindi è una figura da piccola, non facciamo gli psicologi da strapazzo ovviamente, però è una figura da studiare fin dall'infanzia, è il primo della classe, obbligatoriamente è il primo della classe, non può deludere la madre, viene subito caricato di pesi questo povero ragazzo che poi in qualche modo vedremo, probabilmente sono stati fondamentali per certi passaggi della sua vita. Per dirvi, arriva alla seconda liceo, cioè alla quarta liceo classico, praticamente, e ha tutti nove, tutti otto. Chi ha fatto il liceo classico come l'ho fatto io, io ho tutti sei, e lui l'unico sette ce l'aveva in educazione fisica, perché non era portato per l'educazione fisica, povera Stella, tant'è vero che quando ricordano che c'è a un certo punto vestito da Balilla, lui fa una manifestazione a Grosseto, e quando passano davanti al palco, tutti guardano a destra, dove c'è, non so chi fosse il federale, o chi per lui, lui sbaglia e guarda a sinistra, e poi raccontano che lui vestito da Balilla faceva veramente penoso, nel senso che la mamma diceva guarda, stava talmente male che proprio non era il suo vestito, perché non aveva il fisico, vabbè, dunque, tanto è vero che si scoccia a un certo punto, e lui prende la quarta liceo, chiamiamola così, seconda gennaio, a giugno, e poi decide di fare l'esame di maturità da privatista, e va a farlo, lo supera brillantemente, e quindi, nel 1990, vi do anche le date, lo so che può sembrare ozioso, perlomeno abbiamo qualche punto di riferimento, visto che ho proprio preferito farla in maniera cronologica, di modo di avere un susseguirsi di avvenimenti, di cose che possano seguirci in questa sua vita, e va qua a fare l'università, l'università di Pisa, filosofia, quindi con un anno prima, siamo nel 40, 18 anni, e lo descrivono in maniera molto particolare, lo descrivono con un ragazzo molto buono, molto tranquillo, generoso, quando torna da casa, ha la stanza piena di roba da mangiare, perché la mamma lo ha riempito di robe da mangiare, è molto studioso, silenzioso, un ragazzo silenzioso, ma che quando parla dice sempre cose interessanti, questa è la descrizione che fanno i suoi compagni, la cosa molto bella di Corias che è andato a prendere tutti le testimonianze dei suoi vecchi amici, dei suoi vecchi conoscenti, e quindi c'è veramente una bellissima presentazione di quello che è la sua persona innanzitutto, ancora prima che il letterato, sta quasi per laurearsi quando nel 43 lo chiamano a militare, lo chiamano a militare 43, come sapete, 20 luglio, poi c'è il settembre, lui in realtà assisterà al bombardamento di Foggia, quindi siamo nell'Italia che sta per essere liberata e rimesserà molto colpito da questo, vedrà i morti, fu un bombardamento disastroso nel luglio del 43, se non sbaglio, un avvenimento terribile che lo colpisce molto, nonostante questo, a settembre, quando dopo l'8 settembre potrebbe anche tornare a casa, lui decide di fare con gli alleati tutta l'avanzata verso nord e resterà praticamente fino al 45 con la 508esima compagnia degli inglesi perché faceva da traduttore, cioè già da allora lui era uno dei pochi che sapeva l'inglese e faceva da traduttore in questa avanzata per quanto riguarda l'Italia. Ecco, questa è una piccola introduzione fino ai suoi, grosso modo, 20-21 anni, però abbiamo deciso con Davide di inserire una lettera che proprio lui scrive durante il periodo di guerra alla madre perché secondo noi è indicativa un po' del rapporto che c'era con questa signora. Vai Davide. Eccoti la letterona tutta per te e ti chiedo scusa di non essere stato io il primo, non è stato per mancanza di volontà ma per una specie di timore di non riuscire a scrivere una di quelle belle lettere di un tempo. Sono due anni ormai che manco da casa, due anni pieni di avvenimenti e sono molto cambiato. È stata la prima esperienza di vita vera per me. Per la prima volta mi sono trovato solo, padrone e responsabile di me stesso in mezzo a circostanze poco rosee. Come vedi me la sono cavata abbastanza bene, sono contento di poter affermare, e questo mi interessa più di ogni altra cosa, di aver sempre agito da ragazzo onesto. Sarò stato ingenuo qualche volta, un po' avventato, ma non ho mai ingannato nessuno. Il mondo mi è perso meno bello di quel che credevo. Ho visto che la gente è cattiva, sono diventato prudente e guardingo, in una parola, più uomo. Non ho mai troppa voglia di scherzare, soprattutto perché penso a voi lontani e desidero tanto riabbracciarvi. Continuo a stare bene e a lavorare di buona volontà, anche perché lavorando dimentico tante cose. La seconda lettera è del 26 aprile, giorno successivo alla liberazione, ancora da Brindisi. La fine di questa sconclusioniata tragedia è vicina e sento che presto ti abbraccerò. Staremo tanto insieme quando ritornerò e ci diremo tante cose. Ricordo che a Foggia il 15 luglio ci fu un momento in cui mi trovai in pericolo grave. Allora pensai a te e mi parve quasi che tu mi proteggessi. Non posso non farmi del male, pensai, perché la mia mamma non vuole. Come si fa a non affezionarsi? Grazie, Davide. Come si fa a non affezionarsi a una persona simile? Come si fa a non volerli bene? È una persona pura, è una persona sincera, diretta, bellissima, secondo me questa lettera è veramente bellissima. Nel dopoguerra lui si avvicina al partito d'azione, giustizia, libertà, perché non ama gli integralismi. Chiaramente Bellissimo racconta come a Grosseto ci siano tantissimi comunisti, ma lui del comunismo non apprezza, non piace la rigidità, il moralismo di base. dall'altra parte ovviamente Domenico Cristiani manco si parla, dice che dalle sue parti i preti stanno chiusi in chiesa, li vedi soltanto la domenica e quando escono vanno a giocare da loro al bar a carte e si ubriaccano insieme a loro. C'è un bellissimo ritratto che poi vediamo nel primo libro che ha scritto il lavoro culturale che racconta la Grosseto di quegli anni è veramente molto molto bella. nel 1947 conosce Adria una ragazza semplice che non ha studiato bella molto bella ha un negozio di cappelli insieme alla mamma tutti dicono non è la ragazza per te tu hai studiato sei laureato in filosofia ti stai per laureare in filosofia hai tanti interessi la madre è addirittura contraria al matrimonio ma Bianciardi decide di sposarsi ugualmente chi lo sa probabilmente perché ha voglia di scappare di casa perché ha voglia di uscire forse anche da questo rapporto diciamo molto forte per cui molto impegnativo con la madre ma c'è anche da dire che dicono che questa ragazza è molto affettuosa molto gentile molto carina così come anche la mamma e quindi forse va alla ricerca di quell'affetto che forse in qualche modo gli è mancato e praticamente cosa succede succede che nel 48 uno dietro l'altro sono dei momenti fondamentali prima si è laurea poi si sposa già in primavera in anno successivo nascerà Ettore ecco qua il primo figlio anche su questo uno dice uno si attacca alla vita alle cose che ha figurarsi avere un figlio ecco lui ha avuto tre figli anzi due figli e una figlia scusate poi li vediamo chiaramente non ha mai sviluppato un fortissimo senso paterno non si è mai sentito realizzato nell'avere un figlio e quando si sposa per dirvi il personaggio quando si sposa la moglie è tutta orgogliosa mette dottor Bianciardi lui cosa fa prende i biglietti li dà le persone che non conosce poi li fa stampare degli altri con scritto soltanto Luciano Bianciardi e li dà gli amici perché si vergogna cioè non vuole farsi vedere insegna è insegnante per qualche anno insegna prima inglese alle scuole medie poi insegna storia e filosofia al liceo ma l'insegnamento gli piace o non gli piace lo fa sentire un po' troppo stretto anche perché lo spiega molto bene noi insegnanti sarebbe bello interessante nel lavoro culturale l'insegnante allora era precario assolutamente precario tutti gli anni ti rinnovano le nomine non c'era nessun concorso statale per cui tutti gli anni arrivavi all'inizio e non sapevi dove avresti insegnato lo sbalestra alla situazione gli piacciono i rapporti con i ragazzi lui è molto portato a scuola però quando nel 51 gli offrono il comune di Grosseto gli offre la direzione di questa che è la biblioteca chelliana che era non così bella come si vede adesso ma distrutta prima dalla guerra e poi dall'alluvione lui accetta abbandona quindi l'insegnamento ed è il momento forse più sereno della sua vita crea il bibliobus vale a dire cosa che c'è anche a Milano vale a dire lui va in giro a portare i libri nei paesi e anche qua lo trovate forse nel lavoro culturale non chiede mai Elia non so se andasse molto bene non chiede mai il bigliettino che ho scritto ti ho dato il libro lui gli dà i libri gli dà dice ma ti devo scritto no no fa niente poi li vengo a prendere e va in giro con Carlo Cassola che tutti quanti noi conosciamo un grande scrittore sono molto amici in questo periodo dice che in questi momenti loro fanno delle gite in realtà col bibliobus e poi il cineforum che allora negli anni 50 ci voleva il cineforum e il cineforum anche qua è tutto raccontato benissimo nel lavoro culturale comincia con documentari di guerra i film cecoslovacchi i film russi il neorealismo che allora non si poteva fare cinema senza fare il neorealismo e lui comincia a invitare molto attivo e tra i vari intellettuali che vengono da Roma il punto di riferimento più che Firenze è Roma viene Pierpaolo Pasolini a parlare con lui è una cosa di Pasolini che poi parleremo perché nella fine della nostra chiacchierata ritornerà Pasolini comincia a farsi un nome perché la biblioteca funziona Biblius funziona Grosseto funziona e lo chiamano alla Gazzetta di Livorno come prima collaborazione e gli dicono di fare dei brevi ritratti di personaggi del suo paese di Grosseto allora in poche parole lui si beccherà uno schiaffo da uno in pieno paese tanto è vero che la madre si vergognerà a morte di questo perché lui scriveva le cose che vedeva ironicamente ma senza cattiveria chiaramente poi la gente le leggeva si vedeva e si incazzava e poi prende in giro un altro un altro di tue lo sfida duello lo sfida duello perché evidentemente ha scritto che loro si trovano tutte queste signore con questo signore nobile in una sala da te e raccontano e parano evidentemente ha scritto qualcosa che non è troppo simpatico e questo lo sfida duello e dopo per fortuna la cosa non succede niente però questi ritratti provinciali hanno un grandissimo successo lo chiama Lavanti e con Lavanti comincia a fare come succedeva allora sta arrivando la sociologia attenzione sono i primi anni 50 la sociologia all'inizio viene guardata con molto sospetto perché noi siamo storici non siamo solo la sociologia sembrava una roba venuta dagli Stati Uniti l'America è un po' campata per aria e quindi lui comincia invece a fare queste ricerche sociologiche e chiaramente da dove parte? parte da quello che sa e quindi comincia a fare una ricerca sui minatori della Maremma e vanno lui e Cassola a intervistarli vanno a vedere dove lavorano vanno a vedere cosa fanno siamo nel 1953 addirittura racconta di uno sciopero del 1953 perché sciopero? perché negli anni 20-30 questa miniera funziona benissimo la Montecatini fa soldi a palate appena dopo la guerra arriva la concorrenza della Polonia e degli Stati Uniti d'America e queste miniere diventano poco produttive quindi la Montecatini comincia a ridurre la produzione gli operai fanno sciopero e lui racconta di un giorno nel 1953 in cui gli operai escono dalla miniera incatenati addirittura incatenati dopo uno sciopero per far vedere una prova di forza probabilmente dell'autorità e racconta tutto questo sempre nel 1953 attenzione conosce la donna della sua vita Maria Iatosti e la conosce per puro caso in una riunione annuale dei circoli del cinema a Roma hanno un'avventura una sera piacevole dopodiché lui torna a Grosseto lei resta a Roma la cosa finisce sembra finire lì potrebbe essere una vita semplice se ci pensate io me ne rimango a Grosseto tutta la vita e in realtà succede qualcosa che sconvolge la vita di Bianciardi è il 4 maggio 1954 sinceramente secondo me tragide dimenticata io non me la ricordavo mentre tutti ricordiamo il Vaillant ma anche perché il Vaillant c'è stato Paolini c'è stato il film tutti quanti ce lo siamo ricordati attenzione perché il Vaillant prima che Paolini non ne parlasse a teatro non ci si ricordava quasi più di questa io sinceramente non conoscevo è la tragedia di Ribolla che è lì proprio di vicino a Grosseto cosa succede? in questa miniera c'era stato il ponte ve lo spiego brevemente primo e 2 maggio e la miniera erano state chiuse il lunedì quando riaprono almeno così ho letto per riaprire la miniera occorre che tu svuoti con degli impianti di ariazione tutti i cunicoli perché comunque in quel periodo che è stata chiusa si è formato del gas che può essere pericoloso il 3 il 4 gli operai non vogliono scendere dicono no è ancora quelli più vecchi racconta Corrias non volevano scendere dice guardate è troppo pericoloso e invece la Montecatis no no voi potete uscire tanto non vi preoccupate è tranquillo tutto tranquillo vanno giù si incendia tutto eventualmente la reazione non era stata sufficiente muoiono in 43 e questa è l'immagine dei funerali ed è un momento per lui sconvolgente perché lui a questo punto scatta qualcosa lui dice ma io devo andare a raccontare qualcosa devo raccontare questa storia quello che diventerà il suo grande impegno civile sociale personale nasce già prima ovviamente ma in questo momento lui dice che lui basta lui qua non ci vuole più stare deve andare a dare la sua mano a quella che è questa Italia del 54 e a proposito di questo Davide volevo che leggessi proprio la tragedia di Ribolla perché è una delle tante tragedie italiane ripeto che abbiamo dimenticato si seppe della sciagura la mattina del 4 maggio era stata verso le 8 e 30 un'esplosione al Camorra un'esplosione spaventosa avevano visto una gran nube di fumo uscire dalla bocca del pozzo un boato sordo le notizie che si diffusero subito erano vaghe e contraddittorie ma la gravità del disastro fu subito chiara a tutti le esperienze precedenti avevano insegnato che un'esplosione in una miniera di limite assume sempre proporzioni tragiche non è facile capire quel che è realmente successo una piccola folla di donne si accalca dinanzi al cancello dell'infermeria ne esce un'auto con a bordo un uomo svenuto carabinieri poliziotti guardie giurati cercano di trattenere la gente che man mano cresce premi i primi morti uscirono dalla Camorra verso le 5 del pomeriggio l'opera di soccorso o meglio di raccolta delle vittime continuò tutta la notte la gente sta a guardare in silenzio quando suona il campanello dell'organista il silenzio si fa ancora più grave perché vuol dire che arriva la gabbia una donna si mette a piangere un vecchio cammina avanti e indietro gridando solo una bestemmia sempre quella fa dio lupo dio lupo dio lupo è arrivato il procuratore della repubblica con il giudice istruttore gli operai più anziani si fanno incontro per raccontare l'avevamo detto tante volte che doveva succedere ed è successo le bare sono allineate nella sala del cinema di Ribolla trasformata in camera ardente sotto lo schermo hanno montato un altarino con due candene e un croce fisso ai lati tutte le bandiere rosse sopra ogni bara c'è un mazzo di fiori e l'elmetto del minatore ucciso il dolore più composto qua dentro una sposa meridionale sfoga la sua pena con un lungo lamento ritmico quanti modi diversi di piangere a Ribolla una vecchia mare emana sta immobile con gli occhi arrossati fissi nel vuoto rimasi quattro giorni nella piana di Montemassi dallo scoppio fino ai funerali e li vidi tirare su 43 morti 43 fagotti dentro una coperta militare e questo sconvolge Bianciardi che viene che nel frattempo ha ripreso questa liaison con con Maria e fa avanti indietro da Grosseto a Roma con il pretesto che va a fare comunque attività politica a Roma e la Maria è molto introdotta nel partito comunista tant'è vero che gli procura un appuntamento con Trombadori che magari qualcuno ricorda dirigente importante del partito comunista italiano il quale lo convoca a Roma e gli dice guarda sta per nascere qualcosa di molto grande dal punto di vista culturale a Milano noi come partito comunista vorremmo che tu andassi a Milano a lavorare e lui dice di sì dice di sì perché vuole fare questo salto di qualità ed è quindi uno dei momenti decisivi della sua vita la mamma quando lo ricorda dice sempre quanto mai è andato via da Grosseto se fosse stato qua avrebbe avuto una vita completamente diversa ma coi sei lo sappiamo non si fa la storia neanche le vite e quindi arriva a Milano e con Milano inizia un impatto uno scontro molto forte Davide mi spiace disturbarti ancora però abbiamo proprio abbiamo proprio le prime lettere da Milano che siamo quindi nell'estate del 54 fa caldo da morire la gente è orrenda è tutto sporco c'è puzza di benzina le macchine sono sui marciapiedi voglio tornare a casa ma cosa credi che bastino tre mesi di Milano per distruggere 32 anni di Maremma credi che mi voglia proprio far mettere le mutande di lata da questi quattro coglioni perché i milanesi credimi sono coglioni come poca gente al mondo la gente qui allineata coperta e bacchettata dal capitale nordico e cammina sulla rotaia inquadrata e rigida e non se ne lamentano pensa anzi credono di essere contenti se tu domandi a un grossetano a un ricco mettiamo a pioppino bianciardi come se la passa cosa ti risponderà oh porca vada un si campa un si va avanti e così via ma fai la stessa domanda a un ragioniere di Milano 50.000 mensili che ti dirà me la passo mica male questa è la socialdemocrazia in parole povere è tutto così vivere a Milano credilo pure è molto triste non è Italia qua è Europa e l'Europa è stupida tanto più che la gente non è buona non è aperta anche se questo succede per colpa non sua ma sempre come ti dico sopra per la pressione del capitale milanese se io ci resisto ma non mi s'ambiento affatto mia moglie si è sbagliata e perché penso questo a Milano la gente che la pensa come noi cioè i comunisti anche senza tessera la tessera non conta un accidente anzi ho conosciuto i tesserati qua che sarebbe meglio andassero con la Montecatini e qualcuno già c'è andrà a combattere una battaglia molto grossa la rivoluzione si farà dopo tutto proprio a Milano non c'è dubbio perché a Milano sta di casa il nemico nostro Pirelli e tutti quelli come lui e questa gente la si batte a ribolla è vero ma soprattutto qua credimi è così allora avete capito perché ho chiamato il mio amico Davide a leggere ecco può sembrare strano che io ami così tanto i bianciardi quando dice queste cose su noi milanesi però in realtà è un periodo storico molto particolare questo l'ennesimo periodo storico in cui a Milano sta succedendo veramente di tutto comunque al di là di vedere quello che sta succedendo brevemente a Milano in questi anni abbiamo capito il perché lui sale lui sale perché vuole dare una mano a fare la rivoluzione con degli ideali ben precisi lui è un idealista è un puro e si trova davanti questa Milano in cui in piazza del Duomo abbiamo che convivono uno degli ultimi cavalli immagino col brumista e dall'altra parte i filibus e poi arriverà la metropolitana è la Milano della migrazione della migrazione dal sud anche lui se vogliamo è un migrante in qualche maniera che sta cambiando faccia e connotati alla città con questo grattacielo il pirelli che vediamo dopo è la Milano delle grandi periferie che stanno nascendo che stanno snaturando quelli che una volta erano i borghi era tutto quello che era attorno a Milano questo qua via inganni fanno quasi impressione queste case adesso mai ci siamo abituati ma allora soprattutto pensate per uno che veniva da Grosseto che veniva dalla provincia in cui c'è tutto questo scontro tra la vita in provincia e la vita in città cosa potesse significare avere di fronte una città di questo tipo date soltanto questo visto che la conosciamo tutti questo qua ve la faccio vedere sapete tutti che cos'è? no eccola qua questa è via Palmanova e guardate che non è passato tantissimo tempo questa qua è la via Palmanova degli anni 40 e vedete che questa io la faccio sempre vedere ai miei alunni quando parlo di come è cambiato il territorio e come l'economia condiziona il territorio se voi guardate questo ci sono campi in fondo si vede Crescenzago con la torre con il campanile scusate quella bellissima chiesa rossa dove i milanesi andavano in processione partendo da Loreto nei vari mezzi si vede addirittura un carro col cavallo sono passati io adesso non ho la data precisa mi scuso però sono passati 20 anni e questa è la stessa strada è questo che sconvolge simile adesso non è uguale sono dei cambiamenti però i campi sono scolparsi abbiamo case terziario 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 è la città del denaro come dice Bianciardi è la rinascente rinascente che noi milanesi quando la vedemmo ricostruita non la potevamo sopportare come sapete meglio di me brucia la prima volta d'annunzio seconda volta bombe della seconda guerra mondiale era il paradiso del liberty era un bel palazzo aggraziato bello quando i milanesi si trovano questa roba tutta quadrata a rettangoli iperrazionalista dice ma cos'è sta roba i milanesi non sono affatto contenti è la milano della fiera questa è la fiera del 51 la fiera della rinascita tenete conto che c'è uno dei primissimi film gli uomini che mascalzoni degli anni 30 addirittura degli anni 30 la seconda parte è tutta ambientata in fiera il primo film girato a milano la prima film girato in esterni De Sica cioè tanto per dire commedia simpatica se vi capita di vedere e tutta la seconda parte dimostra vogliono dimostrare l'importanza di milano dal punto di vista economico la fanno girare la girano in fiera è la milano del pirellone dove noi mettiamo una piccola statuina della madonna perché è più alta del duomo come sappiamo tutti cioè è una milano che sta cambiando radicalmente volto ed è la milano della torre velasca su mio amico Stefano potremmo discutere a lungo nel senso che io quando vedo la torre velasca sto male ancora adesso però quale altra città d'Italia si può permettere negli anni 50 di radere al suolo un intero quartiere e far venire su un grattacielo che nella non dico cosa penso diciamo nell'idea degli architetti dovrebbe rappresentare figuratevi un po' voi la torre lucidarete ma dove ma solo qua può succedere questo solo qua nessuno negli anni 50 si permette ma perché perché Milano in questi anni diventa la capitale della modernità come si vede anche nel cinema e quindi cambia radicalmente faccia ma cambia con la faccia la faccia influenza l'ambiente influenza chi ci abita e cambia anche chi ci abita e lui questo se ne accorge a Bianciardi non interessa tanto anche se voi vedremo ne parlerà di come cambia la città i monumenti che vengono abbattuti e tutto a lui interessano i rapporti umani i rapporti tra le persone e quando da quel grande paese che eravamo negli anni 30 grosso modo diventiamo piano piano la metropoli inevitabilmente cambia tutto e lui questo lo registra anche perché viene dalla provincia e quindi queste cose le capisci più facilmente mentre noi che qua che siamo nati è più difficile capirle e insomma ve la faccio breve perché ripeto Milano-Agra è per quello che comunque l'abbiamo chiamata così con Giorgio perché chiaramente io sono qua perché sono appassionato come sapete di Milano in realtà sono appassionato anche di Bianciardi però come vi dicevo prima non faremo una cosa letteraria non vi parlerò dello stile di Bianciardi scusatemi ma parliamo della Milano di Bianciardi l'ultimo esempio l'ultimo esempio che vi faccio è questo qua vale dire anche questa la cascina Pociobonelli ma dateci un'occhiata stazione centrale non so ci siete passati non si vede quasi praticamente c'era questa cascina cinquecentesca no? bene cosa succede? tirano giù tutto ovviamente perché a Milano si tira giù tutto lasciano soltanto quel piccolo pezzo con la perché? perché lì ci sono dei disegni che rappresentano la torre del filarete quando il Beltrami va a ricostruire il castello lo sappiamo tutti la storia del castello era già stata decisa la sua demolizione il Comune di Milano aveva già deciso che non tutto demolito bisognava fare avete presente via Dante via Dante doveva passare in mezzo al castello quindi si tenevano in mano si tenevano in piedi quelle quattro cose di lato così si collegava col Sempione e andavamo dritti verso la Francia bellissimo era già stato deciso il Beltrami sale su in consiglio comunale dice senti facendo una bella roba togliamo anche il Duomo perché almeno almeno è ancora più dritto no guardate non sto scherzando non l'ha detto il milanese perché lui era toscano però tirate giù al che c'è in qualche modo si ricredono dicono ok non soltanto poi gli danno da mettere a posto il castello perché il castello che è quel gran giocattolone che vediamo adesso era conciato da buttare via e per dire scusate l'apparenza di suo castello non era prevista però questa qua si salva perché lui quando deve rifare la Torre del Filarete che scoppia nel 1500 sotto i francesi in prima del 1500 non sa la fonte e lì oltre che da un'altra parte in una certosa dov'è chi è Stefano? Caravalle vero? c'è l'unico disegno della Torre del Filarete per cui per andare a riproporla lui va lì e si è salvata per quello ma guardate cosa c'è attorno è assediata poverina e questo è l'ho preso soltanto questo potremmo provare 50 foto della Milano distrutta di quegli anni è questa Milano qui però ci siamo penso che il concetto l'abbiamo capito l'ultima cosa Piazza Duomo in realtà questa demolizione del cuore di Milano è iniziata molto ma molto prima ci sono tre momenti storici in cui Milano viene distrutta completamente guardate questa è una foto del 1860 vedete che da una parte sulla sinistra avete già delle case rotte perché lì c'era tutta chiamiamolo tutto un gruppo di case che arrivavano a fianco al Duomo arrivavano in mezzo alla piazza dall'altra parte avete ancora la contraria del Rebecchino o il Figino era uno dei due che proprio erano a fianco perché Piazza Duomo era un luogo popolare la gente ci viveva in Piazza Duomo ma quando nasce l'Italia capitale morale si fa per dire perché il primo sindaco deve dare le dimissioni perché ha fatto un sopralzo in galleria quindi lasciamo perdere il discorso della capitale morale che potremmo andare avanti a lungo però di fatto quando nasce la capitale economica d'Italia il popolo non può vivere attaccato a Piazza Duomo e quindi viene tirato giù tutto per farvi guardare quest'altra questo era quello che si vedeva tutte le volte mi rimpicciola la foto io ce l'ho fatta ho preso apposta quelle belle grandi in sci questo è quello che si vedeva no ma adesso non voglio magari succede qualcosa e non funziona più niente questo è quello che si vedeva uscendo dalla Piazza Duomo e guarda vedete dove adesso c'è non ci dice eh lo so io questa è quella di prima ma era più grossa ti sicuro che è più grossa va bene non è mistero vedi ma tutte le volte fa lo stesso gioco perché io faccio ah fai così adesso capite perché abbiamo ringraziato Elena all'inizio adesso però non mi va più indietro però adesso fatica la vita raga no vai migliori di solo ti ricordi qual'era Torre Velasca Piazza Duomo 2 facciamola vedere bene questa Piazza Duomo dove vai qua che poi non è il mio computer se no in qualche modo eh guardate voi adesso avete presente quel grande spazio quel grande vuoto che abbiamo davanti e questo invece era quello che vedeva un milanese del 1860 quando usciva dal Duomo vedeva la città viveva la città in prima persona lì c'erano degli alberghi c'era attenzione adesso poi chiudo chiudo è quello che è successo in tutte le città d'Europa non è che sia successo solo a Milano attenzione però mi ring quando noi andiamo a Vienna quelle erano le mura della città pensate Parigi sventrata completamente per fare boulevard però probabilmente quello che è successo a Milano non è successo ci sta toltanto qua perché poi c'è il piccone risanatore che tra l'altro copre i navigli e poi ci sono le bombe della seconda guerra mondiale solo questo e chiudo voi chiudete gli occhi pensate prendete il corso Vittorio Emanuele e andate in Duomo poi da Duomo fate via Dante e andate al castello ecco ditemi quanti edifici prima dell'Ottocento incontrate uno Palazzo Carmagnola basta e più niente niente per cui è vero che sarà successo anche in tutte le città d'Europa la modernizzazione tutte le balle che volete però a Milano non c'è nessuna città che è successo questo Roma e Firenze sono ancora cartoline noi abbiamo sventrato tutta la città ma lasciamene almeno qualche edificio rappresentativo lasciamene uno è rimasto soltanto il piccolo teatro stop nient'altro chiuso la parentesi quindi è in questa Milano scusate per capire questa Milano che sta cambiando faccia ma sta cambiando anche la gente sta cambiando umori che il Bianciarti si trova ed è chiaro che si trova completamente spaesato uno che viene da Grosseto c'è un brano del libro che non vi abbiamo letto io e Davide che è simpaticista anzi no ve lo leggiamo dopo dalla Vitagra e adesso è Fussi Fuli dimmi cosa faccio vado vedi fa sempre questo gioco io devo fare così con questo no? con questo quindi tutte le volte diviene esaurimento allora c'è in realtà qualcuno che si è accorto di questo attenzione il Bianciarti non sarà il primo volevo leggerlo però meglio che non lo legga però vi consiglio assolutamente di andarlo a prendere Silenzio a Milano Anna Maria Ortese passa di qua nel 58 e allora negli anni 50 come dicevo andava molto di moda a fare dei reportage sociologici sulle città quello che lui lei scrive su Milano nel 58 a Silenzio a Milano mi assicuro io la prima volta che l'ho letto ho detto ma questa cosa vuole da noi va giù durissimo dice che questa città non si pensa tutti vanno camminano fanno ma nessuno pensa veramente non ci sono rapporti umani racconta di una povera famiglia meridionale che sta tornando al paese perché non si è ambientata c'è uno schizzo della Milano degli anni 50 che mentre noi siamo abituati a sentirla esaltata come capitale economica del boom eccetera questa ti rivoltava a Milano completamente e ti diceva guardate che a Milano sta succedendo qualcosa che poi si allargerà in tutta Italia e in tutta Europa e snaturerà per sempre i rapporti umani questo già lo dice la mamma Maria Ortese nel 58 quindi qualcuno si è già accorto lui non è il primo e poi lo vedremo anche nei film nella cinematografia c'è Olmi che nel 61 fa il posto e dice attenzione perché i rapporti negli uffici stanno diventando qualcosa di incredibile quindi Bianciardi non è solo quando nel 61 adesso vediamo parlerà della vita agra ma c'è tutto un filone di persone con la testa sulle spalle che si è accorto che qualcosa sta cambiando e non tornerà più ultimo su tutti Pasolini e anche se un po' più tardi però Pasolini dirà esattamente le stesse cose quindi lui si inserisce in un filone molto importante molto da leggere e da approfondire adesso fu dunque adesso vado qua quindi eh sì non mi va avanti perché chiaramente devo tornare indietro qua fare così meno e poi giro dimmi questa ma funziona sì va bene chiuso la parentesi cinema nuovo va bene in sci e larghi no perché arriva a lavorare a Milano finalmente siamo nel 54 e volevo far leggere a Davide una ripresa di quello che abbiamo detto prima ma perché è venuto quindi abbiamo detto per fare la rivoluzione cos'era la ah ok allora facciamo dopo questo sì niente niente no no andiamo avanti un attimo e aspetta aspetta andiamo un attimo avanti io poi ti allora dicevo lui va a lavorare in ufficio e non si trova inevitabilmente non si trova addirittura loro chiamano a cinema nuovo che è questa nuova rivista di Guido Aristarco uno dei padri del cinema lui arriva a chiamarlo Aristarco e chiaramente in un ambiente così piccolo tutti lo sanno non soltanto lui un giorno non ce la fa più a stare a Milano prende va a Roma in malattia quando fai queste cose c'è chi la fa libera chi riesce sempre a svangarla e chi lo beccano subito io sono lì che viene beccato subito lo becca chi Aristarco a Roma becca Bianciardi che doveva essere in malattia con l'amante licenziato e viene preso da Feltrinelli e comincia a lavorare in redazione e lì comincia tutta una serie di persone tipo Ripa di Meana Carlo Ripa di Meana diventerà molto amico di Bianciardi ed è un periodo in cui uno dice però lavora a Feltrinelli cavoli chissà che bella vita fa ecco la vita che fa lui è questa prima va a vivere in un alberghetto in Porta Venezia l'albergo adesso non c'è più sono andato a vedere è forse l'albergo Baviera in via Panfilo Castaldi che però adesso è diventato un albergo di lusso un albergo proprio povero povero poi va e qui ci vorrebbe una targa però secondo me Bianciardi non sarebbe contento di avere una targa in via Solferino 8 via Solferino 8 che adesso è cento allora era una pensione la pensione della vedova tedeschi ecco il nostro amico Bianciardi che lavora a Feltrinelli che quindi dovrebbe fare una vita da nababbo spende 8000 lire di mese al mese scusate ha diritto a un bagno caldo alla settimana lenzuola cambiata ogni 15 giorni poi lui racconta che la vedova tedeschi non è che le cambiava le girava nessun riscaldamento nessun riscaldamento perché la vedova tedeschi diceva che il riscaldamento fa male ai giovani per cui devono crescere prende questo povero Cristo che lavora a Feltrinelli attenzione quindi non è laureato in filosofia e tutto quanto ci becca una bronchite cronica dorme con i golf e con le calze e chiaramente comincia a frequentare la zona che è quella di Brera ma non è la Brera di adesso è la vera Brera la Brera dei pittori la Brera dei fotografi poi racconta con cui lui vive in questa pensione ed è bellissimo lui vive con i pelotari quelli vi ricordate in via quelli della Pelota via Palermo vicino a Garibaldi e c'erano i giocatori della Pelota lui vive con tre pelotari baschi e va a vedere comincia a vedere questo sottobosco proletario di cui lui nonostante tutto fa parte nonostante sia un intellettuale si lavori dove lavora e a Feltrinelli comincia a trovarsi male perché? perché stanno facendo nascere questa grande azienda e chiaramente tutto diventa sempre più standardizzato lui non ha la testa standardizzata a lui gli danno ad esempio una collana che si chiama scrittori d'oggi ma ha tutta una cadenza di impegni cioè devi consegnare le box e devi controllare le segretarie che lui non riesce assolutamente a reggere per cui lui è molto bravo quando fa questi lavori però non riesce a reggere il ritmo lui lo dicono che deve sempre andare a bere il caffè fa la battuta non ci si trova proprio e quindi da una vita diciamo in questi in questi uffici dove non riesce a reggere arriva a casa in albergo e trova una situazione di questo tipo piano piano comincia ad avere qualche problema tra le cose che va a frequentare adesso ve lo faccio vedere eccolo qua il giamaica sempre il solito scherzo maledizione così rosso eccolo qua ecco qua il giamaica è molto romantico ma diceva che allora proprio i soldi non ne giravano tra cui tra questi viene anche Ugo Mulas che è un pittore scusate un fotografo che poi diventerà famoso ed è quello della foto del Pirelli che abbiamo visto prima diventerà poi famoso e quindi cresce in questo in questo suo bosco e loro vanno a mangiare è bellissimo adesso devo tirare quando mi viene giù tirando giù mi viene fuori questo eccolo qua tac adesso sto imparando le famose sorelle Pirovini dove potevi mangiare mezza crescenza perché lui il proverino lui guadagna 80.000 lire però la metà la deve mandare a Grosseto quindi metà la manda lì quindi 8.000 lire di affitto rimangono 30.000 lire 32.000 lire e deve campare per tutto il mese per cui la sua vita diventa un incubo proprio da un punto di vista economico tant'è vero che lui comincia a accettare eccola qua questa qua l'ho trovata secondo me è una bijou via Fioricchiari 20 ed è proprio il biglietto originale della trattoria e anche qua se andate su youtube trovate trovate tutti questi filmati c'è proprio un filmato girato dentro la trattoria e c'è un altro bellissimo di Bianciardi che quando diventa famoso va dall'asciura tedeschi che quando lo vede dice signor Bianciardi testuali parole ma per che progresso che ha fatto signor Bianciardi è diventato famoso ed è bellissimo questo incontro perché lui poi era una persona dal sorriso aperto era gentile era una persona che piaceva stare in compagnia no? detto questo il prima vado di qua in due le ho perso il filo qua eccolo qua ecco bella anche questa foto con le famose latterie di una volta vi ricordate in Olmi nel posto di Olmi quando i due vanno a mangiare c'è questo in Rocco e i suoi fratelli quando il gruppo no scusate in Napoletania Milano quando Edoardo De Filippo va a mangiare in una trattoria milanese che gli chiedono che alla fine gli danno la pastina poverini tutta l'è fatta in piccole piastrelle bianche che sono latterie lui frequenta questi posti qui ma non non lo fa da un punto di vista ideologico lo fa perché Gaminga è danè ce lo fa perché è povero sostanzialmente d'accordo? e qua il rapporto con Feltrinelli il quale Feltrinelli ovviamente si potrebbe veramente dedicare una puntata a Feltrinelli il quale lui a un certo punto poi ne parliamo dopo brevemente lo mette nel romanzo lo chiama il giaguaro infatti come sapete uno dei soprannomi del Feltrinelli è il giaguaro e poi ne parliamo Feltrinelli lo cura a volte Feltrinelli si mette lì a guardare chi entra e chi esce lui grande intellettuale grande uomo di sinistra però deve dirigere un'azienda per cui bastone carota e tant'è vero che a un certo punto loro gli danno da tradurre questo e comincia questo lavoro col fragello della svastica siamo sempre nel 54 succeduto dal 54 e il fragello della svastica è il primo romanzo che lui traduce con grandissima fatica però capisce che è l'unica maniera per uscire dall'ufficio fare il traduttore perché fare il traduttore gli permette di avere un certo agio di stare a casa di non dover andare tutti i giorni a timbrare il cartellino e quindi gli permette di avere una vita un po' più tranquilla e il 55 arriva dopo un anno erotti di rapporti Milano-Roma arriva a Milano finalmente Maria Iatosti la cosa carina è che vanno a vivere sopra la Cd Cinzano che a noi adesso sembra assolutamente impossibile sopra la Cd Cinzano vanno a vivere in un'estrema pensione poverissima dice che questa povera donna che veniva da Roma non poteva neanche stendere il bucato perché diventava nero per colpa dello smog anche lì fanno una vita terrificante e con questi lavori veramente lui comincia a lavorare come un matto è molto metodico lo racconta lui dorme fino alle 8 poi dalle 9 fa un gioretto va a bere il caffè poi dalle 10 alle 2 lavora finisce pranzo poi di nuovo un pisolino deve fare un pisolino poi riattacca dalle 5 alle 8 cioè proprio metodico assoluto però dopo di che comincia a non vedere più nessuno comincia veramente a fare un lavoro da schiavo e non essendo più assunto li si licenzerà nel 56 è il precario per eccellenza lui anticipa la figura del precario con 40 con 40 anni in più perché è vero che lo pagano all'inizio molto poco ed è sfruttato poi un po' meglio però di fatto lui se non traduce non guadagna tant'è vero che con la Maria si mettono d'accordo di quante pagine lui deve fare per campare e ogni giorno lui deve tradurre 15 pagine perché altrimenti e lui fino a che non le ha fatte tutte 15 non smette di lavorare e quindi veramente diventa un'ossessione e quindi cominciamo a capire anche il perché a questo rapporto anche con Milano complicato ma non con Milano e milanesi in sé proprio è la vita che sta facendo che è una vita che in cui non riesce a identificarsi in aprile nasce ve la faccio vedere Luciana questa è una figura chiaramente una foto molto più recente Luciana che è quella la sua figlia che sta curando tutto è scogita ha raccolto tutti i suoi lavori li sta curando l'avevamo invitata perché c'era un mio amico Alberto Filiavia che la conosce poi non siamo riusciti a farla venire e il 56 è l'anno fondamentale nel 56 succede una cosa che succede solo nel film la mattina una delle prime mattine di gennaio arriva la moglie perché nel frattempo lui ha la moglie a Grosseto moglie e due figli a Grosseto la moglie evidentemente ha usmato qualcosa viene su a Milano e va nella pensione e tra l'altro lui ha appena dormito con con Maria Iatosti per cui Maria appena la vede prende ed esce e in realtà racconta che all'inizio lei chiaramente fa una scenata poi si capiscono in qualche modo si parlano lei però non lo vorrà mai più vedere cioè chiude completamente il rapporto infatti nel 56 in Emea appunto ho scritto sono gli anni degli addi dall'addio definitivo alla moglie e questo sicuramente poi ripeto ci vorrebbe veramente un discorso molto più approfondito da un punto di vista psicologico è molto pesante lui ha fatto questa doppia vita è stato bigamo praticamente mandava i soldi alla moglie aveva due figli figuratevi e poi nel frattempo faceva quest'altra vita con Maria quindi qualcosa poi alla fine pesa di tutta questa cioè uno è uno che se ne frega ed è tranquillo ha nel carattere il modo di fare benissimo buon per lui ma lui probabilmente non era fatto così lui era sempre il primo della classe lui era sempre quello che doveva fare tutte le cose per Benino questa cosa in qualche modo potrebbe uso condizionale perché chiaramente non c'è un'analisi psicologica su questo però potrebbe aver avuto sicuramente le conseguenze poi lascia Brera perché ormai ha qualche soldino in più e va in via Marghera questa è la bella via Marghera e poi come dicevo lascia definitivamente la Feltrinelli e diventa quindi precario per eccellenza e qua Davide ti ridò la parola scusami l'interruzione un ritratto di questa signora qua Anna del Boboffino intellettuale comunista persona diciamo molto importante negli anni 60 nella cultura degli anni 60 e ho trovato questo ritratto che lei fa di quando lui abbandona la Feltrinelli Vincardi era un bell'uomo con una faccia dolce anche se aveva atteggiamenti da maschio italiano il gusto per la parolaccia un linguaggio molto spinto la mia prima impressione fu molto timido però mi faceva paura perché dissacrava molto e dava sempre dei giudizi taglienti sulle persone sapevo che aveva abbandonato la famiglia che viveva con un'altra donna in una stanza librera che aveva orari strani insomma lo collocavo nell'area un po' misteriosa degli artisti e lui mi turbava questo suo vedere Milano con occhi così diversi dai miei io sono milanese ci ho vissuto sempre per me Milano era una città viva che stava crescendo il grattacielo Pirelli era un monumento formidabile una cosa di cui andare fiera invece lui era completamente disfattista mi prendeva in giro mi faceva rabbia la mia milanesità la distruggeva con una risata io credevo nella ricostruzione non solo materiale ma anche morale del paese nella democrazia in un futuro di progresso Bianciardi no era pessimista arrabbiato a posteriore dico che lui aveva ragione si rendeva conto molto più di noi di quello che sarebbe diventata l'Italia e di quello che circondava in quegli anni il clerico fascismo lui non aveva niente del classico funzionario di casa editrice che lavora un progetto che ha accettato certe regole e che è sostanzialmente un integrato il vestito per esempio non portava mai la camicia e la cravatta si vedeva che non aveva alle spalle una mamma o una moglie che gli stirava tutto si vedeva che era povero trasandato che non gli importava un bel niente mentre noi tutti chi più chi meno arrivavamo in ufficio vestiti in modo decente a volte la sua presenza metteva disagio la sua era una irriducibilità di fondo ostentata che non accettava compromessi e poi c'era Feltrinelli il rapporto con Gian Giacomo lui era contemporaneamente padrone e coetaneo era l'amico ma anche quello che ti dava i soldi a fine mese pochi tra l'altro e Gian Giacomo era ricco in modo impressionante abitava in piazza San Babila aveva un sacco di gente al suo servizio l'autista un appartamento incredibile ogni tanto ci invitava a casa sua alla sera e Bianciardi abituato alla sua stanzetta si incazzava di brutto ma come questo ci dà due lire e noi dobbiamo anche fargli compagnia si incazzava con noi ci sfotteva e di solito non ci veniva proprio mentre tutti quanti noi si correva magari per amicizia vera non dicono i no però si andava come vi dicevo come si fa ad innamorarsi di un puro come questo di un idealista di uno che non accetta compromessi è difficile perché tutti quanti noi ne accettiamo e lui comincia quindi a fare un lavoro di questo tipo metodico tutti i giorni da lunedì al sabato 14 giorni 14 pagine 15 pagine di traduzione la domenica invece voi direte si riposa no la domenica scrive per sé e comincia a scrivere due romanzi che hanno un certo successo il primo è questo il lavoro culturale Biblioteca di Cernusco in cui racconta quello che abbiamo detto prima cioè tutta il cineforum il come si chiama la biblioteca gli intellettuali che vengono da Roma questa grosseto che lui chiama Kansas City che sta diventando sempre più grande è un'opera molto carina leggera guardate la leggete in tre ore ve lo giudico ve lo prometto bellissima veramente bella in cui racconta tutto questo l'anno dopo nasce il suo terzo figlio Marcello Iatosti nel 59 invece arriva l'integrazione ed è quello che vi dicevo prima il giaguaro dice che è il giaguaro che arriva sempre in ufficio incazzato e lì racconta di tutti i suoi colleghi cioè il collega che è maniaco il collega che si occupa delle come si chiama delle assunzioni dice che le donne non le vuole prendere perché le donne cosa fanno si fanno assumere poi dopo due mesi sono incinta e quindi io li devo pagare tutti i mesi e loro stanno a casa sembra una cosa fatta nei giorni noi siamo negli anni 50 è stessa cosa non è cambiato nulla e racconta tutta questa sua la vita d'ufficio che lui fa e ci sono i primi prodomi diciamo della vita agra però la città non è ancora protagonista perché Milano Agra è perché Milano è veramente protagonista del libro qua invece la vedi come sfondo parla qualcosa accenna qualcosa ma poi è in preparazione appunto per questo qua invece l'abbiamo preso a Brugherio per cui non posso darvelo dopo dovete devo restituirlo prima io e poi sempre eccolo qua scusate questo è l'integrazione dopodiché esce un altro libro da quarto a Torino eccolo qua in cui comincia a parlare di risorgimento lui abbiamo detto è laurato in filosofia appassionato di storia e comincia a rileggere il sorgimento con particolare attenzione a Garibaldi che lui considera un eroe un mito un idealista e da qui in poi lui si dedicherà dopo la vita agra scusate la 62 in poi soltanto a libri praticamente sul risorgimento benissimo altro momento fondamentale quando traduce il tropico del cancro di Harry Miller perché perché vi ricordate chi l'ha letto è un linguaggio molto forte il tropico del cancro del capricorno ci sono scene hard infatti lui si fa quasi una nomea di scrittore erotico tradurre quelle cose non era facile ma lui è quello che rimane diciamo affascinato è dal personaggio Miller infatti lo prendevano in giro lo chiamavano il millerino perché lui è talmente affascinato e questo è sicuramente influenza sul modo di scrivere perché attenzione è affascinante chiaramente io non ne ho le competenze però il rapporto tra il traduttore che poi diventa scrittore quanto tu assimili quanto è tua la traduzione di chi stai traducendo quanto ci metti del tuo che poi sicuramente rielabora un modo di scrivere che può essere influenzante e quindi di fatto lui traduce Harry Miller ed è un momento secondo tutti gli storici fondamentali e poi Davide lettura 5 inizia comincia a scrivere a un amico e dice ma sto iniziando la vita agra lettera del 4 febbraio 1961 in preparazione avrei un altro libro più grosso e più cattivo su Milano nonostante il passare degli anni la rabbia contro questa città cresce di continuo qui c'è un vantaggio che ti danno un lavoro e ti pagano per il resto non è una città non è un paese non è niente è solo una gran macchina caotica senza cielo sopra e senza anima dentro andrebbe minata eppure tutti si ostinano a dire che è il cuore d'Italia lettera del 26 aprile ho in animo di buttar giù una grossa pisciata in prima persona sull'avventura milanese sul miracolo economico sulla diseducazione sentimentale che è la nostra sorte di oggi Stai lì Stai lì Davide che leggiamo a questo punto e ora mi diverto e vengo qui anche io allora io ho deciso vi dico in tre secondi la trama andatelo a leggere perché l'obiettivo di oggi è andare a leggere Bianciardi per cui non vi racconto nulla la storia è la storia di Bianciardi di un uomo della Toscana che vuole venire a Milano che viene scusate a Milano per vendicare quello che è successo al suo paese e vuole far saltare per aria il torracchione e questa è la in sintesi la vita agra lui viene a Milano per fare questo abbiamo deciso Davide e io di leggervi alternativamente alcuni brani del libro e vai Davide io sto qua vai vai come vuoi alle cinque cominciano a entrare i primi treni in stazione e a buttar giù battaglioni di gente grigia con gli occhi gonfi in marcia spalla a spalla verso il tram che li scarica all'altro capo della città dove sono le fabbriche per due o tre minuti sotto le volte della sala biglietti sfilano a passi lesti poi tutto ritorna vuoto e silenzioso fino al prossimo treno al prossimo sbarco di gente assonnata e freddolosa non puoi fermarne uno chiedagli come si chiama ma che cosa fa se è vero che è lì ma la ghisa con le mani come dice Franzi il triestino li guardi e sono già sfilati via senza voltare gli occhi attorno e anche più fretta non la sera perché c'è la paura di perdere il treno e poi ti tocca aspettare mezz'ora il prossimo ed è mezz'ora sottratta al sonno anche se dall'orologio è chiaro che non ce la faranno gli uomini grigi intabarrati con una sciarpa di lana al collo o il passamontagna calato sugli occhi non rallentano la marcia verso la banchina dei treni e continuano ad arrancare ecco quando il convoglio si è messo in moto gli vanno dietro ostinati e febbrili succede che qualcuno mette il piede in fallo e finisca sotto le ruote e gli altri allora si affacciano al finestrino per vedere a chi è toccata poi si rimettono a sedere era il Gino in forma 1 in silenzio a guardar bene questo trasloco in periferia nonché allontanarci ci avvicinava alla città finché fossimo rimasti nell'isola attorno alla braida del guercio della città noi avremmo visto soltanto una fettina esigua atipica falsa avremmo visto pittori cappelluti ragazze dai piedi sporchi fotografi affamati ma non la città non si capisce Parigi standosene barbicato a Montmartre né Londra abitando a Chelsea così non si capisce questa città ruotando attorno alla cittadella guercia no per intendere la città per cogliere al di sotto della sua tesa tetraggine il vecchio cuore di cui molti favoleggiavano occorreva adesso lo capivo fare la vita grigia dei suoi grigi abitatori essere come loro soffrire come loro fare vita di quartiere come suol dirsi e magari anche vita di sezione purché capocellula sia non il Tosacani parigino ma il fiero imbianchino che ti ha pitturato la camera e compagni il garzone del lattaio il vigile urbano la massaia il giornalista che ha una stanza nella pensione vicino a casa tua purché cellula e sezione coincidano col tuo mondo quotidiano di qui sarebbe nata la solidarietà di qui il modo della riscossa un milione e mezzo di formiche umane da stringere scatenare contro i torracchioni del centro contro i padroni mori e timbergecchi contro i loro critici tirapiedi e fare piazza pulita di ogni ingiustizia di ogni sporcizia di ogni inequizia adesso capivo che sarebbe stato inutile sciocco far esplodere io da solo la cittadella del sopruso della piccozza dell'alambicco no bisognava allearsi con la folla del mattino starci dentro comprenderla amarla e poi un giorno sotto tutti insieme perciò ero contento di abitare in questa periferia popolana e laboriosa spesso la sera dopo rigovernati i piatti uscivamo a passeggio nella nebbia fuori non si incontrava una persona soltanto qualche larva imbacuccata e frettolosa che scantonava verso casa fra lo sfrecciare delle automobili nere uscendo dai cinematografi a mezzanotte precisa filavano a letto e li vedevo in faccia solo nell'attimo che sostavano dinanzi al portone per tirar fuori la chiave e aprire non una finestra illuminata a quell'ora tutti avevano sbarrato le imposte e dormivano lì nei paraggi c'erano un paio di bar con la televisione il padrone sul podio della cassa con gli occhi vigili perché tutti consumassero qualcosa e la gente stava mutolita a guardare qualche volta con Anna ci entrammo cercando di attaccare il discorso con gli spettatori ridendo alle papere del presentatore il giovedì sera ma la gente ci guardava appena e un po' storto anzi e una sera un tale borbottò ma cosa ci sarebbe da ridere? sai la grana che si fa a quello lì? altro che ridere dicevano tutti la grana la grana e poi i danè la grana sarebbe quella che si prende e i danè quelli che si pagano mi pare di aver capito ci vogliono tanti danè dicevano appunto le donnette la mattina al mercato rionale che era un grande padiglione basso e largo proprio in mezzo alla piazza eh sì tanti danè e così dicendo sostavano in fila silenziosa tutte inteccherite davanti ai carrettini della frutta dove un meridionale nero e berciante pesava le arance e le buttava in un imbuto di carta gialla tanti danè la grana la grana diceva invece il droghiere lo diceva con gli occhi e con gli occhi stimolava il commesso piccoletto e nervoso a fare presto a fare tanta grana e subito dai ricordo una sera di sabato che avevo litigato con Anna proprio al principio del corto budello accanto a un distributore di benzina c'era un uomo steso per terra di certo un ubriaco perché spesso la sera del sabato si sentiva il canto iroso e sconnesso di qualche ubriaco rimasto solo l'uomo per terra aveva i capelli bianchi e adesso guardava a me con un sorriso ebete come va? gli chiesi vuoi una mano? volontolò qualcosa in dialetto di gola si trovò a sedere e mi tese la mano per un poco lo sostegno sotto le ascelle ma appena l'ebbi lasciato e lui tentò di andarsene con le gambe sue e barcollò e cade all'indietro o ci rimase secco e mi guardava ancora ma senza più il sorriso ebete anzi con occhi di vetro e quando mi chienai a vedere meglio scorsi un filo di sangue che gli usciva dalla nuca e si spandeva nero sul selciato al bar lì accanto avevo già visto quattro uomini senza cravatta che giocavano a carta e così andai là a dire che c'era un ubriaco ferito e che da solo non ce la facevo a rimetterlo in piedi e che anzi provandoci mi era caduto battendo la testa i quali rialzarono appena gli occhi senza dire niente beh c'è un ubriaco per terra e allora? e datemi una mano a rialzarlo ma si rialzerà da sé non ce la fa l'ho aiutato io ma mi è ricaduto e perde sangue e noi in cosa c'entriamo? è successo a lei no? ma se la veda lei e riattaccarono giocare a carte la croce rossa mi disse allora una donna che stava lì vicino seduta a un bicchiere telefoni alla croce rossa andai al banco e chiesi dove era il telefono e non è a gettone ma mi faccia telefonare lo stesso? e non è a gettone la davanti vada quello è a gettone la davanti mi rivolzi alla cassiera c'è un ferito per strada mi dia il numero della croce rossa per favore ma vuol telefonare da qui? beh sì non è un telefono pubblico sì ma mi raccomando non faccia il nome del locale questo è un locale per bene non vogliamo storia con la croce rossa va bene non faccio nome ma mi dia il numero? eh se lo cerchi sulla guida e indicò il mobiletto sotto il telefono cercai il numero poi chiesi il gettone la moneta fece la donna che cosa? le 20 lire gliele diedi e debbi il gettone la croce rossa prima risultò occupata poi mi dissero che l'autoambulanza era fuori ma che avrebbero provveduto subito chiesero la strada io gliela indicai rimasi là fuori sul marciapiedi con le mani in tasca e di fronte vedevo la figura del vecchio sempre stesa sul secciato qualche larva rincasando quasi cinciampò meno una coppia scartarono per non pestarlo e tirarono dritto io restavo lì fermo e non potevo farci nulla passò un'ora prima della sirena dell'ambulanza il giorno dopo in tram cercai nella crona che ci dessi appunto che un ubriaco 65enne non identificato sinora era morto per frattura della base cranica in seguito a una caduta da ritenersi accidentale del resto succedeva ogni giorno mi spiegaranno i colleghi in ufficio quando glielo raccontai un malato di infarto che muore sul marciapiede davanti all'ingresso dell'ospedale senza poterci entrare perché non ha pronti i soldi del deposito o in regola le marchette della mutua intere famiglie falciate da un camion con rimorchio vecchiette stritolate dalle ruote del tram perché non hanno saputo salire a tempo e sono rimaste con un piede impigliato nelle porte automatiche ingenuo ero io a meravigliarmene a New York per esempio altro che qui centinaia di morti ogni giorno in incidenti del genere e anche a Londra a Calcutta migliaia di morti di fame ogni giorno il mondo è fatto in questo modo non l'avevo ancora capito ogni giorno io trascorrevo in tram almeno un'ora e mezzo bene chi non sa può forse credere che viaggiando su quel mezzo pubblico 45 ore ogni mese in capo all'anno uno debba avere fatto centinaia di conoscenze decine di amicizie per esempio quelli che per ragioni di lavoro prendono ogni giorno l'accelerato tra follonica e il paese mio li vedrete salutare dal finestrino casellanti le capistazioni preoccuparsi se aggiunge un carico non sale come ogni mattina il maracini e poi domandare ma perché? come sta? è conoscenti il conduttore nemmeno chiede più il biglietto casomai si ferma un momento ti siede accanto accetta una sigaretta si informa se andrai anche tu a ballare a braccagni il sabato qui no ogni mattino la gita è entrambi un viaggio in compagnia di estranei che non si parlano anzi di nemici che si odiano il conducente siede cupo e serio pronto col piede sul campanello quando sulla strada si pare un veicolo o un pedone il bigliettaio sta dietro la gente le rispetta e li teme e li odia del resto odia tutto il suo prossimo è difficile riconoscere una faccia anche se fai tutti i giorni per anni la solita linea questo anche perché si somigliano tutti i passeggeri del tram ci sono tre tipi fondamentali di faccia la faccia del ragioniere in camicia bianca con gli occhi stanchi di sonno già le otto del mattino poi c'è la faccia disfatta della casalinga che va al mercato lontano perché si risparmia un po' di danè e nonostante l'ingombro della sporta piena è sempre la prima a salire e infine c'è la datilografetta con le gambette secche che ha una faccia smonta stirata alacre color della terra color del verme peloso che striscia sulle foglie dei platani non si vede altro certe magnifiche ragazzi le incontri soltanto dopo le 5 del pomeriggio a piedi nelle vie del centro hanno le gambe lunghe e tornite un incarnato di porcellane il sedere alto è tondo è superbo e ti chiedi come facciano a ritornare a casa perché sul tram non le incontri mai ma forse hanno qualcuno che le riaccompagna in macchina e così fanno una vita sempre un po' divergente dalla tua i miracoli veri sono quando si moltiplicano pani e pesci e pile di vino e la gente mangia gratis tutta insieme e beve i miracoli veri sono sempre stati questi e invece ora sembra che tutti ci credano a quest'altro miracolo balordo è aumentata la produzione lorda e netta il credito nazionale cumulativo e pro capite l'occupazione assoluta e relativa il numero delle auto in circolazione e degli elettrodomestici in funzione la tariffa delle ragazze squillo la paga oraria il biglietto del tram e il totale dei circolanti sul detto mezzo il consumo del pollame il tasso di sconto l'età media la statura media la produttività media la media oraria al giro d'Italia faranno insorgere bisogni mai sentiti prima chi non ha l'autonobile l'avrà e poi ne daremo due per famiglie e poi una testa e daremo anche un televisore a ciascuno due televisori due frigoriferi due lavatrici automatiche tre apprecchi radio il rasolo elettrico la bilancina da bagno l'asciugapelli il bitè l'acqua calda a tutti purché tutti lavorino perché siano pronti a scarpinare a fare polvere a pestarsi i piedi a taffanarsi l'un con l'altro dalla mattina alla sera io mi oppongo appena fuori c'è il traffico che mi investe io potrei dire senza calendario che giorno è proprio dal traffico rabbiosi sempre il lunedì la loro ira è alacre scattante stanche inviperita il sabato la domenica non li vedi li senti però dentro le case indaffarati coi rubinetti le vasche da bagno gli shampoo i bidet a sciacquarsi sopra e sotto specialmente le donne a rifarsi la testa le labbra gli occhi poi dopo la messa riecono in branco stimolati dal digiuno accecati dalla santità della cerimonia drogati dalla prospettiva del relax che si avventano al bar per la pastarella l'aperitivo dal bar vanno alle ediccole comprano anche tre quattro giornali illustrati spingendoti di lato coi gomiti perché alla mezza devono andare in tavola no premora il traffico astioso delle auto la domenica comincia nel primo pomeriggio perché vanno sempre in branco alla partita gli altri giorni sono pericolosi e che a un bambino fa bene a mettergli in testa la paura del traffico e dirgli attento nini la macchina ti schiaccia e dai la mano a mammina come se fossero lupi le automobili ma anche i grandi devono stare attenti se sono pedoni senza la mutua perché se finisci sotto sei fregato se finisci sotto fuori dalle strisce e loro non hanno da pagarti una lira anzi sei tu che gli paghi il danno eventuale il vetro del finestrino rotto lo sporco del sangue sui sedili una maccatura al cofano l'incomodo il tempo perso loro hanno gli avvocatoni e tu sei solo ma la paghi anche se finisci sotto al passaggio zebrato perché nell'urto è quasi sicuro che tu vai a cadere più in là delle strisce e loro possono sempre dire e dimostrare con gli avvocatoni delle assicurazioni che è stato fuori l'investimento conviene traversare sulle strisce ma tenendosi al margine più vicino alla parte da dove arriva il traffico così sei un poco più sicuro di cadere nel passaggio e i danni te li pagano anche se penalmente non gli costa più di un quattro mesi con la condizionale ci sono due passaggi zebrati dalla porta di casa mia all'edicola dei giornali e finora ce l'ho fatta senza danno solo qualche insulto da guidatori costretti a rallentare specialmente quelli civili quelli consapevoli del proprio dovere che si bloccano davanti alle strisce e con la manina rabbiosa ti fanno segno di passare e intanto ti borbottano stopirla gli da noia il sole gli da noia la pioggia gli da noia il vento e se potessero se comandassero in tutto per tutto loro non ci sarebbe nemmeno più il clima le stagioni il tempo ma soltanto una cupola grigia e fuliginosa sopra la città e perché sia così costantemente operano la chiamano nebbia se la coccolano te la mostrano se ne gloriano come di un prodotto locale e prodotto locale è solo non è nebbia e semmai una fumigazione rabbiosa una flautulenza di uomini di motori di camini è sudore è puzzo di piedi polverone sollevato dal taccheggiare delle segretarie delle puttane dei rappresentanti dei grafici dei PRM dell'estenodatilo è fiato di denti guasti di stomaci ulterati di budelle intasate e fetore di ascelle deodorate di bischeri disoccupati succede a volte che in città arrivi il vento un vento senza odore e senza nome perché nessuno si dà la pena di fiutarlo e di chiamarlo in qualche modo arriva non sai da dove anzi da ogni parte e ti ripesca tutti i cantoni non ti dà agio di appoventarti arriva e spazza via la cupola fulginosa e per qualche ora ti sembra di esserti metto gli occhiali il disegno delle case si fa netto i lumi a sera brillanti vedi perfino le stelle e il monte rosa dal terrazzino due tre volte l'anno vedi il cielo lungobardo così bello quando è bello ma subito ricominciano a taccheggiare gli attivisti a rifare fumi flautulenze fetori polveroni esalazioni e in un paio di giorni al massimo la cupola fuliginosa è ben rincomposta e gli attivisti ci respirano dentro soddisfatti perché hanno ritrovato l'aria natia senza sole senza vento e senza pioggia dal portone di casa mia all'edicola dicevo ci sono due passaggi zebrati pericolosi ogni mattina in piazza c'è l'incidente stradale due autoferme muso contro muso i guidatori in piedi a urlare se uno non è già morto e un capanello di gente sul marciapiede che sta a guardare intanto sono arrivati gli operai con i picconi e scavano la fossa scamiciati con il muso duro e il rossiccio danno di piccone sull'asfalto e se poi la massicciate è troppo dura arrivano altri con il martello perforatore ci premono sopra con tutto il corpo e vibra dai piedi alla testa vibra anche l'aria intorno a loro aperta la buca se ne va il giorno dopo altri operai provvedono a rimettere a posto la terra scavata gli scavatori intanto si sono spostati un poco più in là sempre sul marciapiede e scavano una fossa nuova che sarà riempita puntualmente il giorno dopo nessuno ha mai saputo perché facciano queste fosse non è che poi ci sotterrino i morti del settimanale incidente d'auto gravissimo e nemmeno vanno a cerca di reliquie di ruderi di tartufi di minerali eppure scavano e la gente non protesta per l'incomodo né per il fragore dei martelli vibratili la gente protesta semmai se nella casa di fronte tengono il gramofono troppo alto e arrivano a cascata le note di Vivaldi per rumori lavorativi c'è rispetto sommo invece è in quel dissennato scavare tutti vedono il segno del progresso che cosa ci sia sotto nessuno l'ha mai capito bene ma intanto dicono c'è lavorato un branco di gente e come si sa il lavoro fa circolare la grana l'operaio spende i danè e se ne avvantaggiano tutti per motivi di ricerca sociologica ho provato anch'io una volta a mettermi panni di messi camicia senza colletto calzoni turchini sporchi di calcio la barba lunga i capelli scarruffati ho provato in questa tenuta in munito di piccone a scavare uno spicchio di strada e poi a lasciarci la buca nessuno me l'ha vietato e anzi il giorno dopo c'erano operai a disfare il mio lavoro a riempire la mia buca guidati da un geometra in camicia bianca ma senza cravatta serio che lavori sono chiesi e lui faceva un gesto vago senza rispondere mi pagarono anche la giornata quando mi presentai all'ufficio tecnico comunale poco ma me la pagarono e io conservo il mandato e posso anche esibirlo a richiesta se qualcuno non ci crede il bottegone è una stanza enorme senza finestre con luci giallastre sempre accese a illuminare le cataste di scatole colorate dal soffitto cola una musica calcolata per l'effetto ipnotico e appesi al muro ci sono specchi tondi ad angolazione variabile e uno specialista chiuso chissà dove controlla che la gente si muova compri e non rubi entrando ti danno un carrettino di fil di ferro che devi riempire di merce di prodotti vendono e comprano ogni cosa gli emitori hanno la pupilla dilatata per via dei colori della luce della musica calcolata non battono più le palpedre non ti vedono e a tratti ti sbattono il carrettino sui lombi e con gesti da macumbati raccattano scatole dalle cataste e le lasciano cadere nell'apposito scomparto nessuno dice una parola tanto il discorso sarebbe coperto dalla musica e dal continuo scaracchiare delle calcolatrici il bancone giù in fondo è quello delle carni dietro c'è una squadra di macellaie macellaie che spartano terga di bove le affettano le piazzano sul vassoio di cartone le involgono nei cellofan e poi richiudono con un salvatore elettrico davanti al balcone sostano le donnette ognuno ha in mano un vassoio di carne e lo guarda senza vederlo lo tasta lo rimette al suo posto ne piglia un altro la donnetta accanto a lei prende a sua volta il vassoio scartato lo guarda lo tasta lo rimette al posto suo e avanti nelle ore di punta il vassoino non fa nemmeno più in tempo a ritornare sul balcone appena visto e tastato passa in mano un'altra donna percorre tutta la fila delle donnette echine come tanti polli a beccare in un pollaio moderno poi torna indietro continua la musica ipnotica e quando la gente è arrivata alla cassa ormai paga automaticamente tutto quello che si ritrova a trascinare nel carretto la fila delle cassiere è sempre attiva ai calcolatori e le dita salta beccano di continuo sui tasti come cavallette impazzite in testa hanno un berettino azzuro col nome del bottegone non battono palpebra fissano i numerini con le pupille dilatate e ogni giorno ha il visino più smunto le occhiaie più bluastre il colegito più terreo il collo più vizzo come tante tartarughette io lo dico sempre metteteci una catasta di libri e accecati come sono comprerebbero anche quelli ho letto su un giornale specializzato che questo è l'agorà il forum la piazza dei nostri tempi forse è vero mi ricordo che il vecchio Lenzirini al suo bottegone di scarlino scalo teneva tutta questa roba e altra ancora anche i cappelli teneva i vasi da notte il baccalà a mollo e i lumi a carburo ti preparava anche un cantuccio di pane col salame bastava chiederlo e intanto ti raccontava di qualche suo nonno che accompagnò Garibaldi a casa Guelfi e lo vide riposarsi sotto il quercione là in vista di Cala Martina professore lasci stare pagherà quest'altro anno diceva e davanti al blocregone invece c'è uno spiazzo dove razzolano le galline niente passaglio zebrato qui invece è doppio e pericoloso viale contro viale dal cancello di casa mia all'edicola dei giornali io non gliel'ho mai detto ma secondo me è sbagliato far venire gente a casa è una fatica imprevista e improduttiva che nessuno ti compensa anche se il conoscente viene soltanto dopo cena bisogna tenere la conversazione metterci un minimo di intelligenza di spirito altrimenti quello poi va in giro a dire che sei svanito di stanchezza e la voce gira non ti danno più lavoro perché concludono che ormai tu non ce la fai più bisogna bere come il conoscente e chi se ne intende sa che una cosa è il bere da soli distesi comodamente sul letto con i muscoli allentati il cervello sgombro l'altra cosa è il bere in compagnia in compagnia il bicchierino deve agire da stimolante ogni sorso provocare una battuta di osservazione un'arguzia un motto che sia pertinente con le battute le osservazioni le arguzie e i moti spiritosi dell'interlocutore altrimenti non sarebbe un invito per il dopocena e tutto questo significa fatica non ricompensata che ti rimane addosso il giorno dopo insieme a qualche fumo di alcol bevuto male troppo in fretta troppo in tensione bisognerebbe non vedere mai nessuno vedere gente non serve a nulla anzi è una perdita di tempo e poi mi sono accorto che andando in centro trovi sì qualche conoscenza ma ti accorgi subito che la tua conoscenza è un fatto puramente ottico non trovi le persone ma soltanto la loro immagine il loro spettro trovi i baccelloni gli ultracorpi gli ectoplasmi nei primi mesi dal loro arrivo in città forse no forse resistono hanno ancora una consistenza fisica ma basta un mezzo anno perché si vuotino dentro perdano linfa e sangue diventino gusci scivrano sul marciapiede rapidi e senza rumore si fermano appena al saluto e con un sorriso scialbo e anche all'esterno se guardi bene sono già un poco diversi impinguati e sbianchiati e dicono scusa ho premura una commissione scappo e poi scappano davvero riscivolando taciti sul marciapiede al massimo arriveranno a dirti stringendoti la mano perché tu gliela porgi proprio per sentire se ci sono in carne e ossa o se invece è soltanto un'immaginazione tua o un fantasma al massimo ti dicono fatti vedere dentro le ditte è la stessa cosa uno che magari al mattino ti ha telefonato per il lavoro lì pare sorpreso che tu arrivi proprio con il lavoro che ti aveva chiesto al mattino sorpreso stanco e un poco seccato perché la tua presenza adesso è un assillo un tafano per lui prende il lavoro lo guarda dubbioso dice vedremo lo mette in un cassetto e poi ha da fare così io me ne vado me ne vado volentieri perché dentro le ditte c'è odore di morto aria di chiuso stanchezza ma non stanchezza abbandonata scattante attiva febbrile come da quando ti senti arrivare in corpo l'influenza non vedi l'ora di essere per strada dove almeno la gente che passa non la conosce affatto a parte quei gusci che ti dicono fatti vedere ma che cosa volete vedere che cosa volete voi ectoplasmi a voi da vedere al massimo darò la mia fotografia me ne faccio fare parecchie copie ve la distribuisco così guarderete quella a più autorevoli toccherà stampata su un ovale di porcellana da appendere al muro con sotto un lumino e il vasetto dei crisantemi e questo libro che insulta tutti e tutti noi questo libro che se ci pensate anticipa di decenni quelli che poi saremmo diventati ha un successo incredibile un successo spaventoso che nessuno che lui per primo non si aspettava e poi dice e dopo lo leggeremo e forse magari poi lo leggiamo vabbè poi già leggio tant'è vero adesso ti anticipo un attimo Montanelli lo chiama dal corriere della sera e qua c'è potete capire la contraddizione cioè lui ha appena insultato tutta Milano tutta quella gente lì e Montanelli e Montanelli c'è un bellissimo racconto di Caria che dice si incontrano e alla fine Montanelli mi batte la mano sulla schiena e dice oh Biscaro vieni eh ti aspettiamo al corriere al corriere lui e Bianciardi comincia un attimino a perdere le coordinate cioè lui si aspettava tutt'altra come reazione frequenta le feste Giorgio Bocca comincia a fare i salotti Bocca dice ma questo qua è venuto a casa mia prima cosa mi fa fare ecco eccolo lì l'intellettuale Bocca che era un tipo partigiano tipo che mollami li sono subito girate cioè lui andava alle feste ma andava alle feste per star zitto provocava forse chi lo sa era timidezza forse chi lo sa forse ripeto non possiamo fare analisi psicologiche e e e quindi comincia ad entrare in quel giro in cui però lui ci sta ma ci sta a fatica e poi spara sinceramente quello che pensa i salotti buoni di Milano figuratevi cosa non può succedere vogliamo leggere magari facciamo sì comincia il tour perché chiaramente il successo è un talmente un successo enorme lì perché comincia il tour ricordava Domenico Porzio era straordinario starlo ad ascoltare recitava faceva il verso alle segretariette secche che traballano sui tacchi a spillo raccontava di Brera dei pittori poveri in canna di quando si barricava in casa con l'esattore fuori dalla porta attaccato al campanello si divertivano tutti lui meno degli altri a stare a questa lettera ormai poi sto girando come un rappresentante di commercio ho battuto i marciapidi delle mivi adesso mi preparo a fare la medesima cosa nel Veneto viene con me Domenico Porzio e a volte sembriamo due comici da van spettacolo sempre le stesse battute sempre la faccia di chi le dice per la prima volta mi comincio a vergognare e perciò stamane ho ricominciato col solito lavoro di tutti i giorni per riconquistarmi la stima di me medesimi vai pure fai anche quella è una lettera alla sorella di me cos'altro dirti quello che avevo in corpo l'ho messo nel libro ora la vita agra sembra finita il libro mi sta fruttando oltre che un po' di quattrini amicizie più o meno disinteressate offerte di lavoro migliori anche da parte del Corriere della Sera inviti a parlare di qua a mangiare a fare gite credi pure non mi aspettavo né tanto successo né tanti unanimi consensi avevo scritto un libro incazzato e speravo che si incazzassero anche gli altri e invece è stato un coro di consensi pubblici e privati specialmente a Milano il mondo va così cioè male ma io non ci posso fare nulla quel che potevo l'ho fatto e non è servito niente anziché mandarmi via da Milano a calci nel culo come meritavo mi invitano a casa loro e questo noi ci sorridiamo ma probabilmente lui ci soffriva perché lui col libro aveva lo scopo di suscitare reazioni di aprire menti e invece no e invece anzi il libro gli procura l'ingresso nei salotti buoni e questo sicuramente per un idealista come lui che ci credeva nel cambiamento delle persone eccetera è un ulteriore colpo ma nel frattempo lui va dappertutto Gianni Brera lo considera uno dei più grandi scrittori del novecento addirittura collabora con lui al guerrini sportivo e al giorno perché lui decide di non andare al corriere ma va al giorno si fa vedere a San Siro lui ovviamente Bianciardi non poteva che essere milanista ovviamente giustamente ed è un vanto per noi milanisti per cui va a San Siro commenta commenta le partite comincia a scrivere dappertutto comincia a scrivere per le ore che comunque era un giornale di critica sociale non era soltanto non era un giornale pornografico per lo meno in quel periodo e anche per ABC cioè comincia a fare tutta una serie di interventi e poi addirittura arriva nel 64 arriva il film adesso io avevo preventivato nella mia ingegnità qualche minuto di film però sono le 6 meno 20 e non so se forse sia il caso ve lo andate a guardare in realtà comunque sinceramente il film non rispecchia il libro come spesso come voi sapete meglio di me spesso succede leggetevi il libro perché il film di Lizzani con protagonista eccolo perché succede sempre questo con protagonista Toniazzi è in realtà una commedia tutto quello che lui ha detto con ironia ma anzi con sarcasmo e con una punta di cattiveria viene buttato in burletta nonostante lui approvi la cineggiatura anche perché lo dice sinceramente mi porta un sacco di soldi e quindi finalmente posso vivere in maniera un pochettino più agiata di fatto il libro non merita assolutamente il film però se vi capita leggete perché comunque è un film simpatico tu l'hai fatto vedere forse l'altra volta Elena nel segno che l'hai fatto è un film simpatico fa ridere fa sorridere però non era quello che voleva Bianciardi Bianciardi non voleva far ridere e sorridere Bianciardi voleva suscitare una reazione da parte delle persone che da adesso non c'è stata vado adesso però devo diminuire giusto questa cosa mi viene qua e sono a posto eccolo qua vi faccio vedere questo è l'inizio del film e anche qua quando vedete questi film della Milano anni 60 è tutto un rivedere la nostra infanzia ve lo ricordate hai partito addirittura aiuto questo qua è il transatlantico chi non se lo ricorda è il transatlantico in stazione centrale e quando voi vedete questi film questi qua sono i bagni diurni in piazza Duomo che adesso mi sembra che siano chiusi sono stati aperti per un po' e adesso si sono chiusi cioè fare è un tuffo nella città di quel tempo qua c'è tutto un pezzo con Toniazzi che va in giro per le macchine i pedoni i poverini che sono schiacciati per le macchine il pezzo che prima ha letto Davide in realtà sono andato a vedere nelle cronache del tempo ogni giorno c'erano decine di morti ammazzati per incidenti automovilistici molto più di adesso e quindi è un pezzo che in realtà al di là dell'ironia nascondeva da un punto di vista della cronaca un fatto assolutamente vero e poi vedete che tutti è commedia il Toniazzi questo qua invece sono una breve quello che lo faccio vedere lui va a cercare ecco qua i Annacci lui diventa amico di Annacci frequenta il derby e ama questa comicità surreale di Annacci che va nelle cave vedete è dove lui va a mangiare praticamente e c'è tutto un pezzo con gli Annacci che canta e lui che dice ma io voglio andare a cercare gli operai sono stufo di stare qui con i pittori con gli artisti dove sono gli operai e poi lui va a cercare gli operai e gli operai non se lo filano perché hanno fretta di andare a casa perché hanno appena finito le otto ore di lavoro se non di più e c'è tutta una scena bellissima alla Pirelli in cui si vede via le sarca come era allora che è veramente quando vedete questi film degli anni 60 è come vedere veramente la nostra la nostra infanzia e qua c'è tutto un pezzo sulle segretariette che sono le vere quelle che veramente comandano in ufficio e tu devi dipendere da loro lui infatti il ragionere bianchi è appena stato assunto e questa quale dice mi hanno chiamato ma non vogliono niente da me è soltanto così per far fumo e lui racconta come si sviluppano le segretarie adesso vi fa dire il potere si sviluppa con la prima segretaria piccola poi abbiamo la segretaria più grande che poi genera altre segretarie che si moltiplicano e sono loro quelle che veramente comandano in ufficio e adesso c'è un bellissimo immagine invece di noi uomini che invece siamo lenti ormai sorpassati e chi comanda in ufficio sono loro vedete questo far polvere tutte che camminano veloce che taccheggiano ed ecco noi maschi invece che siamo lenti lentissimi in ufficio ce ne sono di carine di sequenze veramente belle questa ve la lascio perdere tenete conto come dicevo prima 61 c'è il posto di Olmi capolavoro assoluto il primo lungometraggio di Olmi che dice guardate la vita in ufficio che cos'è guardate cosa stiamo diventando ma attenzione Milano in quegli anni sfodera un film dietro l'altro che parla del boom ed è alla fine del boom il disordine di Brusati bellissimo questo qua è la rimpatriata film amarissimo in cui si ritrovano questi amici che negli anni 50 avevano tante idee tante utopie si ritrovano tutti falliti con un grandissimo Walter Chiari e poi la notte perché in realtà il disagio non è soltanto sociale ma si allarga l'individuo la notte è un capolavoro assoluto e l'altro capolavoro ovviamente Rocco e i suoi fratelli per cui se voi andate è stato soltanto un breve cenno ma se andate a vedere il boom genera una serie di opere anche cinematografiche oltre che letterarie che vedono Milano assoluta protagonista perché non sta succedendo quello che sta succedendo da noi non sta succedendo da nessun'altra parte noi siamo quelli più moderni siamo quelli che lanceranno tutto ciò che purtroppo gli altri copieranno da lì a poco va bene uno degli ultimi momenti siamo nel 64 in cui lo vedono tranquillo quando Rizzoli lo porta a New York ormai lui è un autore famoso Rizzoli vuole aprire la libreria La Quinta Strada figuratevi Rizzoli che apre una libreria La Quinta Strada figuratevi che tempi 64 e viene tra gli autori che vengono scelti e lui e lui si diverte tantissimo addirittura piace guardare i grattacieli guardare la città e dopo di che viene un momento fondamentale l'ultimo brano che ha letto Davide ha un risvolto molto amaro a un certo punto dice ma io cosa vedo gente a fare e c'è un momento in cui siamo nel 64 che lui a un certo punto è stufo non ce la fa più ha fatto due anni di bella vita pensate se una fosse normale succedesse a me o a Davide di fare uno spettacolo o un libro che ha un successo enorme saremmo felici forse saremmo in grado anche di gestirlo a quel successo giusto Davide e lui invece dopo due anni che è diventato scoppia proprio scoppia cioè proprio scoppia nel senso peggiore del termine tant'è vero che fa una scelta incredibile lui che è cercato da tutti che ormai è diventato come abbiamo detto prima una star va a Sant'Anna di Rapallo si rapallizza come dice un suo amico cioè va a isolarsi completamente dal mondo quindi neanche Rapallo Sant'Anna di Rapallo che è a un chilometro da Rapallo in un condominio con una casa enorme mezza vuota e lui va a chiudersi lì è chiaro che gli amici dopo un po' vanno a trovarlo ma dopo un po' lo sapete meglio di me vai una volta ma chi è che vai in Liguria tutti i giorni a trovare il tuo amico Bianciardi si isola sempre più e ha tra l'altro un momento di depressione totale che sfocia purtroppo la depressione nell'autodistruzione e comincia a bere già beveva prima di fatto però comincia a bere in maniera smudata il professor lo chiamano lì in Liguria scende la mattina apre la libreria della moglie comincia ad andare a giocare a boccetti comincia a farsi il giro dei bar questa è la sua vita Ligure di lui di una star assoluta e quindi chiaramente questa è un'altra immagine di Sant'Anna chi lo sa perché è andato lì forse c'è una ragione però lui forse si aspettava di ritrovare nella provincia quello che aveva lasciato Grosseto di ritrovare tranquillità cioè di trovare una dimensione che fosse consona a questa che era questa sua nuova vita ritrovare un equilibrio forse aveva idealizzato questa 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 località e e poi succede il patatrac nel senso che praticamente si stacca da tutti lui ha soltanto qualche momento di orgoglio in cui riappare quando c'è la strage di Piazza Fontana ma non tanto per la strage in sé quanto perché come sapete è coinvolto un anarchico e lui si sente attenzione non era un anarchico bacuniano di quelli ahimè dogmatici anche gli anarchici eccetera lui era un individualista amava l'idea l'utopia dell'anarchia ma non in maniera strutturale infatti tant'è vero che una delle poche cose che fa a livello pubblico è fare i complimenti con la Camilla Cederna perché finalmente fanno un libro in cui dicono guardate che Pinelli poveracci l'hanno o l'hanno ucciso o comunque c'è qualcosa di poco chiaro e su Piazza Fontana c'è qualcosa di poco chiaro e la Cederna che poi si beccherà denunce e cose di questo tipo per quello che ha scritto è l'unico momento in cui lo vedi lo rivedi o altrimenti questa foto qua che trovate su Inter che è curiosa già vedete però un uomo abbastanza sfatto questo lui l'unico che riescono a tirarlo fuori dal suo esilio è l'oranzo da Cantù che è una squadra di pallacanestro in cui c'è Corsolini che è il suo amico e allora gli dico quando è una squadra importante Cantù di Basket quando vanno a fare le trasferte lui accetta di andare in trasferta questa qua è un'immagine del 69 68 scusate in cui lui è andato in Israele e ha visto come gli israeliani trattano i palestinesi e ha visto come si chiama come trattano gli arabi e lui per protesta ritorna in Italia e si fa vedere con la bonda vi ricordate Mosè Dayan ed è uno dei pochi scatti che ha e poi c'è il momento più drammatico forse lui esce con questo praticamente ultimo libro aprire il fuoco sul risorgimento e va in tour e dopo tanti anni cosa fa? torna a Grosseto e lui forse chissà cosa si aspettava tornare a Grosseto va a dormire dalla madre fa la presentazione del libro una bellissima serata e poi in realtà si scopre nudo perché il giorno dopo non ha più amici non ha più conoscenze ha problemi con i figli prima abbiamo detto scusate ho tralasciato un piccolo pezzettino abbiamo detto quando lui si separa dalla moglie lui può vedere i figli una volta all'anno il 6 di gennaio è l'unica volta che può vedere i figli tant'è vero che Luciana come sua testimonianza dice ma io mi confondevo Natale con la Befana perché prima facevamo Natale poi mi arrivava un altro Natale perché mi arrivava questo signore che non conosceva e mi portava un casino di regali e quindi chiaramente andando avanti con gli anni questo rapporto con i figli il rapporto con la ex moglie è chiaramente scombussola quella che è un'identità evidentemente molto sensibile molto fragile e quindi a Grosseto è una delusione terribile tant'è vero che lui cerca di recuperare il rapporto con i figli per tutto il 1969 lui va avanti indietro da Rapallo a Grosseto per andare a trovare i figli ma si accorge di una cosa fondamentale che il passato non c'è più che i figli non si possono recuperare così all'improvviso che è ancora più solo di quanto non pensasse e a questo punto interviene Maria e gli dice senti andiamo a Milano prova l'ultima carta dice proviamo l'ultima carta riportiamola a Milano andiamo a Milano questa è l'ultima casa la casa più odiata la casa più brutta via Boccaccio è l'ultima casa di Bianciardi e gli amici cercano di starli vicino ma non ci riescono non più di tanto voglio farti leggere questo leggiamo leggiamo come viene descritto l'ultimo Bianciardi diciamo così era ottobre anno 1971 l'ultima volta che l'ho visto vivo io sono nella sala di un grande albergo a Milano seduto su una poltrona di cuoio rosso ero lì per un pranzo roba per giornalisti e scrittori credo fosse la presentazione di una rivista Luciano doveva venire alle 10 ma non arrivava io stavo per conto mio quando mi volto e lo vedo era in ritardo di almeno due ore stravolto barcollava la gente lo guardava con gli occhi sgranati mi è crollato accanto gli ho detto Dio mio Luciano l'ho tenuto vicino ci siamo seduti al tavolo del ristorante e gli cadeva la faccia nel piatto l'ho portato sui divani mi teneva per un braccio e mi disse caro mio io sto crepando ma ma ci metto troppo morire è difficilissimo cosa devo fare? il problema è che non si vuole far aiutare il problema fondamentale è questo pensate la compagna Maria che tra l'altro hanno avuto un figlio Marcello che deve vivere con un padre simile cerca di farlo curare lui butta via le medicine si rifiuta anche perché c'è un altro problema lui beve a parte questo esempio per lo di solito è abbastanza sobrio cioè beve tantissimo ma riesce a salvarsi tant'è vero che molti telefonano a Maria agli amici ma no figurati ma non ti preoccupare io l'ho visto ieri sì è vero beveva 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 ma tutto sommato mi sembra normale ma normale non era nel 71 esce questo film il merlo maschio che prende con Laura Antonelli e Buzanca infatti nel libro di Corriere c'è proprio le testimonianze di Buzanca tratto da un suo da un suo racconto il racconto si chiama il complesso di lott e quello che poteva in qualche modo dargli soddisfazione in realtà Buzanca racconta che lui era Verona a girare e lo vedono arrivare e lui tutta la notte va in giro beve un casino dice però sembrava tranquillo sembrava normale e invece appunto normale normale non è il problema fondamentale la questione viene fuori quando il 23 di ottobre del 1971 sta povera donna mettiamoci anche nei panni della Maria Iatossi dice basta io me ne vado tu non ti vuoi curare non vuoi fare niente vuoi continuare così io ho mio figlio piccolo da proteggere io me ne vado e questo chiaramente scatena quello che sono gli ultimi giorni lui aveva tirato fino all'ultimo gli ultimi giorni di vita questo succede il 23 ottobre il 26 ottobre lui doveva consegnare una traduzione perché lui nel frattempo cercava lavoro perché voleva avere soldi in ultimi anni lui fa soltanto due traduzioni lui e tra l'altro nel libro di Corriere si fa impressione dice a un certo punto arriva la traduzione chiamano mi sembra Ripa di Meana e gli dice guarda questo è il libro in inglese questo è quello che ha scritto Luciardi Bianciardi si era inventato tutto c'è un pezzo completamente inventato cioè non è più affidabile tanto è vero che questa povera donna Maria è lei che scrive cioè lei che sta su fino a lei già lavora fa la giornalista quindi è una persona che ha avuto una bella carriera infatti è scrittrice poetessa se andate a cercare su Wikipedia la trovate Maria Iatosti e di fatto è lei che fa le traduzioni alle due di notte per riparare i danni che fa lui perché con le conti è diventato un buon nome come traduttore ma ormai non c'è più quella testa dicevo scusate 26 tre giorni dopo che lei se n'è andata uno dei redattori va a casa sua in via Boccaccio trova la porta aperta entra ed entra in stanza lo vede completamente tutto buio tutte le bottiglie per terra tutto così al che chiama immediatamente la croce rossa lo portano la sera del 26 lo portano al San Carlo e dice questo qua che era con lui che appena il dottore lo vede dice non c'è niente da fare coma epatico non c'è più niente da fare lui resterà no guarda rimane in coma fino al 14 novembre oggi è il 12 ricordatelo tra due giorni e io dico ma non so ogni tanto dei momenti di conversione cioè Bianciaro lo sento proprio nel senso che è questa parte finale della sua vita che è veramente drammatica e ricordiamocelo tutto perché non riuscirà più a riprendere cioè riprende ogni tanto vita parla con Maria e tra l'altro dice una cosa molto brutta a Maria così è scritto non so se sia vero o meno penso lì si dice tutta colpa tua è una frase stranissima che le dice e e morirà il il 14 di novembre quindi fra due giorni esatti e muore solo questa persona che era diventata un punto di riferimento una star muore completamente solo in questa stanza numero 35 al San Carlo e come ultima lettura Davide ci puoi fare quello che lui aveva pensato come suo testamento come suo funerale scusatemi e come ultima lettura leggiamo questa io voglio un funerale all'antica un funerale laico ma di una certa solennità non ci voglio i preti ma ma gli ex preti ce li voglio ci voglio quelli che hanno buttato la tonaca alle ortiche e si sono fatti comunisti pur restando preti nell'animo ne voglio quattro di questi preti spretati e togliattizzati e poi voglio due cavalli neri col pennacchio in capo due critici letterari a cassetta e ai quattro cordoni del carro ci voglio nell'ordine uno storico un critico d'arte un funzionario di casa editrice e un redattore di terza pagina deve essere un bel funerale dietro venga chi voglia tranne le segretariette secche loro no e poi si scordino pure di me allora chiudiamo con se avete l'ultimo libro che vi consiglio Gaia Manzini Manzini a Milano con Luciano Bianciardi ha scritto un'ultima frase che secondo me va bene per chiudere è stata la miccia del suo furore ma il fuoco non ha bruciato i grattacieli ha bruciato lui e con questo senza dire altro perché quando si chiude un incontro come questo scusate due ore si rischia sempre di dire cose retoriche e la retorica a Bianciardi non sarebbe piaciuta assolutamente vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti